probabilmente è tornata mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare no perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po spaisato quando si deve cambiare siamo spaisati e alla fine c'è ancora una grande grande proprio piacere di andare in bicicletta sportivo della cantina tollo alexia il gruppo adesso ad altissima velocità intanto ha forato pantani ha forato pantani attenzione pantani fora un momento e non riesce a cantare vediamo che no non aveva forato sono proprio alle spalle della maglia rosa è stata l'assistenza shimano a dargli la bicicletta adesso è arrivato anche beppe martinelli un momento a a a a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.